Musica Salve gente, qui è vostro Nikron e benvenuti in Call of Duty Mobile Ragazzi ho deciso di realizzare questa brevissima miniserie portandovi un po' di gameplay realizzati con l'emulatore ufficiale di Tencent che permette di giocare con determinati giochi mobili, quindi su dei dispositivi smartphone e android, direttamente su Windows quindi è inutile dirvi che non c'è paragone a giocare da PC tramite anche altri emulatori e questi giochi online però devo dire che per un utente medio o comunque per un utente come me che difficilmente riesce a giocare su smartphone innamorato della Master Race PC, difficilmente riesce a immedesimarsi in smartphone o joypad vari quindi di conseguenza questo emulatore sono una manna dal cielo Vabbè ragazzi, non vi annoio ancora più di tanto, vi lascio al gioco e spero che questi gameplay vi piacciono Grazie e buona visione 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 Grazie e buon Grazie e buona visione Grazie e buon Grazie e buon Grazie e buona visione Grazie e buona visione